buona turma ragazzi, se non mi sono mai conosciuto come Tegaro, mi sono come Tintegaro, sono Tubagic, come vedete la maggior parte del titolo, andiamo a fare diamante l'assalto, ci manca solo un imprese a rischio con le M8, cosa si è fatta? No, se ne mancavano due, poi non lo so, non ho guardato, allora, la mappa fortunatamente è stata in section perché ho continuato a buttare finché non uscita una mappa decente, sono su veterano, niente, quello lì con l'RSA, di nuovo c'è piena che continua a rompere le valle, ancora, che ti aspetta il tempo, si si, la facci, e buonanotte, sono andato, non si è facciato in su, si, perché sono all'ora spawn, però, guarda, non vi ho portato il riservo, a madonna, perdiamo A, e prendiamo C, allora, la FATENLINE non so cosa dirvi, si, poi faccio la pompa, fatto doppia di colpa alla distanza, non ancora, ok, eccola, però adesso non è una classe adatta, ok, si chiama, ok, siamo qua, e vi faccio il giorno di amante, e niente, se il video vi è scritto lasciate un bel posizione in su, iscrivetevi, commentate, e noi ci vediamo il prossimo video, non mi lascio lei, bella rega, buona giornata!